Ma il pianoforte è uno strumento a fiato? È l'inizio del primo di tre preludi di Gershwin. Ma che razza di inizio è? Sii mai visto un pianoforte che comincia un pezzo così? Gershwin non sta pensando al pianoforte, ma ha una tromba puntata al cielo. Ba 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 ba. Ba 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 ba. E quando poi entra tutta la big band, cioè l'orchestra jazz, la festa comincia. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info